12 luglio, 11 anni fa, perdeva la vita nelle acque del lago non lontano da riva Claudio Brunetti, 16 anni. Come il giovane di Delebio, amante della natura e dell'acqua, ogni anno i ragazzi della bassa valle, ma anche del Sondriese, non vedono l'ora di un tuffo nell'ario. In assenza del mare questa è diventata, nel tempo, una vera e propria area balneare, una meraviglia se non fosse che allora non esisteva sorveglianza da riva e ancora oggi ci sono comuni totalmente scoperti. Altri, quelli che nel tempo hanno aderito alla campagna condotta da Patrizia Gobbi, la madre di Claudio, hanno invece tracciato una via nuova. Nei progetti di una mamma, tanto colpita dal dolore quanto determinata nel preservare la vita dei bagnanti, perché ad altre famiglie non succeda ciò che è accaduto alla sua, c'è infatti una legge ad hoc, perché il servizio dei bagnini, nato sulle spiagge di Sorico, Piona e Montecchio, venga esteso in tutte le zone maggiormente frequentate da residenti e turisti. L'associazione Amici di Claudio è 11 anni che opera ormai sostanzialmente sulle rive del lago di Como, lato colico e lato sorico. Avevamo avuto solo un anno, 2011, in cui il servizio era stato attivato anche a Geralario e poi il comune non ha rinnovato, perché comunque questa attività viene fatta esclusivamente se il comune ci chiede di fare questa attività. Abbiamo cominciato appunto 11 anni fa con la collaborazione della Salvamento di Sondrio, che ovviamente ha impiantato il servizio dal lato tecnico-organizzativo. Poi nel 2017, 2015-2016 abbiamo collaborato con Croce Rossa, dall'anno scorso lo stiamo portando avanti da soli, comunque sempre con all'interno delle persone che hanno delle competenze specifiche in materia. Lei si è sempre detta decisa ad andare fino in fondo perché si varasse una legge ad hoc proprio in questa materia, un'idea che lei ha abbandonato? No, non l'ho abbandonata perché comunque siamo stati più volte in regione Lombardia con l'amico Pasquini e anche con Piasini comunque che mi ha dato una mano su questa partita per portare avanti un discorso di legge regionale. Avevamo quasi cantato vittoria un anno e mezzo fa quando in effetti avevamo visto una bozza di legge regionale che poi non è più stata sviluppata per questioni non tanto economiche perché alla fine era stato fatto un ottimo studio economico ma proprio perché comunque ci voleva quell'attimino un po' forse di coraggio per imporre ai comuni del lago di attivare questo servizio. Quindi lei rilancia questa proposta, tornerà in regione? Sicuramente sì anche perché comunque grazie almeno al nostro intervento sono stati stanziati più fondi anche in favore di queste attività non direttamente all'associazione o comunque ad altri organismi che comunque si occupano di queste attività ma all'autorità di bacino che poi provvede alla distribuzione dei fondi. Novità di quest'anno, quasi a sottolineare anche l'amore di Claudio Brunetti per gli animali, l'introduzione nel programma di sorveglianza attivo ogni weekend durante l'estate di due specialisti in soccorso in acqua con unità cinofila. Il Bau Watch non vi erano dubbi ha catturato l'attenzione generale con grandi vantaggi anche sul piano della prevenzione. Grazie a tutti.